Quando parte l'audio partite anche voi, ok? Papa! 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 Vieni bene! Stai verso la destra! Che c'è? È fuoco, guarda! Guarda in mezzo, che c'è in mezzo? Sti! Cosa c'è in mezzo? Sti! Guarda! Cos'è successo? Dove siamo? Dove siamo? Allora, perché l'ha fuoco? È chiuso! Qui ci sono le gratte, poi c'è la gente... Non dimenticare il tecnico, non dimenticare il tecnico! Stai su di lui! Provandiamo! C'è qualcosa che ti comprime, senti le muscole che ti comprime, metti le mani avanti che c'è la forza... Sono là che stanno per venire! Stanno per venire! Dietro c'è gente anche, li senti la schiena... Stanno comprimendo il muscole, però ti stanno dando un po' forza! La senti? Vai un po' a su! Vedete questo spazio che è un grasso che hai! Dov'è? Puoi respirare? Respirare! Respirare! Ripa da via il palo con il mio cabello! Alla gomma! Alla gomma! Adesso in avanti spingiamo! C'è più spazio! Uno! Due! Tre! Andiamo! 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 E tieni! 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 Ok! Ok! C'è più spazio adesso! Senti come si rilasci! Vai! Le gambe si rilasci! Tutti si rilasci! Tutti stanno là! Non ci vanno a prendere adesso! Ma noi lo aspettiamo! Vediamo cos'è! Come? Se cammini vanno a vedere! Questi che fanno qua? Che fanno qua! Che fanno qua! Che fanno qua! Ma è un'ora che sono qua! Non fa niente! Non fa niente! Non fa niente! Ma il dottorio che c'è? Che cos'è? C'è fuoco! Cosa stanno facendo? Cos'è? Che fanno? Non fa niente! Non fa niente! E più è libero! E più lo spazio è niente! Siamo qua! Ormai non ci possono anche fermare! La piazza è nostra! La piazza è nostra! La piazza è nostra! La piazza è nostra! C'è la mano elevata! La piazza è nostra! E' nostra! No! Seguiamo i miei maghi! Tre giorni! Tre giorni! Tre giorni! Tre giorni! Tre giorni! Un corpo! Non te la salita a te è? Tranquillo! Tenvi le mani in faccia! Le mani in faccia? Lo bussa di manzo! Lo bussa a quaderno! Se le dobbiamo tenere le mani in faccia e le insieme! Mi dai forza di qua! C'è la lingua di fraccia? C'è la lingua di fraccia? Ammina Mi comando? Mi pericomodo Mi pericomodo Mi pericomodo Mi pericomodo Mi pericomodo Sei pronto? Ok Eccomodo Vai Vai Bravo 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 Molto meglio Molto più interessante Veramente molto più interessante Però Il problema è che